Salve a tutti ragazzi, benvenuti ai miei iscritti in questo video e bentornati su Gioviac di Spò, io sono Gioviac di Spò, siamo qui nel negozio per aprire che cosa, che cosa, eh ve lo dico io, un pacchetto da 100.000 crediti, non sto registrando in live perché, non lo so perché, non mi andava di fare una reazione live, però vi dico che, che saranno usciti dei giocatori da 84, lo sa, e quindi ora, andiamo ad aprire, vai buttatevi a 100.000 crediti, vediamo chi cazzo ci esce, vediamo, oh, 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 oh buon tango cazzo 100.000 crediti buttate all'aria come buttare via 100.000 crediti bene ragazzi spero che questo pacco mini mi sia piaciuto se vi piaciuto se vi piaciuto se vi piaciuto un bel pollicione in su supportatemi per favore e iscrivetevi al canso dei suoi genitori a tutti qui io vi rispondo vi ringrazio e vi ripeto di nuovo a mettere un mi piace per i 100.000 crediti spesi ci vediamo domani con un nuovo video ciao e bello a tutti